In questa quinta domenica del tempo di Quaresima abbiamo scelto come parola nodale quella dell'ora. L'ora è la dimensione del tempo. Abbiamo visto precedentemente un movimento attraverso lo spazio, attraverso il cammino che era nel deserto, il monte, il tempio eccetera. Ora invece esattamente sull'ora vogliamo concentrare l'attenzione ed è il dodicesimo capitolo del Vangelo di Giovanni che mostra l'incontro con i greci. I greci vuol dire coloro che erano i pagani ma che comunque andavano a Gerusalemme a motivo forse del commercio che avveniva nella spinata del tempio ed è proprio questo aspetto che è unico del Vangelo di Giovanni che ci riferisce al fatto che c'è una domanda e quindi un interesse. Questi greci avevano che era quello di potere vedere Gesù, di potere cercare quindi Gesù, di interrogarsi su di lui. E' il mondo che viene da fuori quindi non sono tanto i giudei ma è il mondo che è esterno perché il tempio era concepito così una forma di microcosmo che aveva tutta l'area intorno, questa grande spianata sulla quale potevano andare anche i pagani ma poi all'interno poteva entrare solo il popolo di Israele. Questo è un microcosmo quindi le tante popolazioni potevano attraversare questa grandissima spianata ma dentro solo il popolo santo. Eppure Gesù è lì per tutti, è lì per quelli della spianata e per quelli di dentro il tempio e questo lo fa nell'ora. Badiamo che il Vangelo di Giovanni tante volte continua a insistere su questa ora che anche in ricco è come in italiano si dice esattamente con lo stesso termine ed è curioso notare come paradossalmente proprio in un altro episodio appena prima nel capitolo undicesimo quando racconta dell'episodio della resurrezione dell'amico Lazzaro, lì la giornata lui dirà che sarà divisa in 12 ore, sono 12 ore del dì della luce e le 12 ore della notte perché la giornata noi sappiamo è composta da 24 ore. Era curioso osservare come quella una specie di spartiacque dell'ora in tutto il Vangelo di Giovanni contando tutte le ricorrenze dell'ora fino a quel punto noi ne vediamo 12 da quel punto in avanti altre 12 quasi a dire che tutto il Vangelo distribuito nel passaggio che si è nel giorno nel dì e poi si entra nella notte infatti siamo nel dodicesimo capitolo ed entriamo proprio ormai verso il tema dell'ultima cena e proprio in quell'ultima cena si dirà ed era notte ecco perché questo grande giorno si compia dal mattino alla sera si entra nella notte per sfociare di nuovo al mattino e qual è il mattino nuovo del Vangelo di Giovanni è quello del primo giorno dopo il sabato cioè il giorno della resurrezione lì comincia il giorno nuovo della storia